La presenza dei cattolici, forte di un miliardo e 300 milioni di unità, si estende ai quattro angoli del pianeta, ma non in Europa. E questa la fotografia che emerge dal rapporto Fides in vista di domenica 22 ottobre, 97 giornata missionaria mondiale. Dalle pagine del dossier è chiaro che rispetto al numero in aumento dei cattolici, quello dei sacerdoti, attestato su 407 mila, e delle religiose, diminuite di oltre 10 mila unità, ma nel complesso poco più di 608 mila, è in netto contrasto. Segno negativo anche per i missionari laici e i catechisti, mentre è marcato l'aumento dei diaconi permanenti nel mondo, che oggi raggiungono quota 49 mila. Sono Africa e America i continenti dove si registra il maggior numero di cattolici. L'Europa invece fa analino di coda anche sul fronte della presenza sacerdotale, oggi attestata nel totale su poco più di 407 mila. Quanto al settore dell'istruzione, la Chiesa gestisce nel mondo oltre 74 mila scuole materne e 100 mila primarie. Sul versante dell'assistenza dispone di 5.405 ospedali e 14 mila dispensari.